Oggi ti porto la storia di Ilaria. Ilaria è una donna di 53 anni arrivata in sessione da me dopo una diagnosi di cancro che ha vissuto una vita impegnata e impegnativa nella dinamica costante di fare 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 fare. Questa benedetta dinamica che è molto ridondante e molto comune a tante donne in particolare per tanti in realtà svariati motivi. Quindi in questo video ti voglio dare quelle che sono poi le motivazioni principali ma che sono ovviamente motivazioni inconsce che molto spesso sfuggono alla nostra attenzione. Allora partiamo a monte ok? A me piace andare sempre in profondità delle cose perché se non si va in profondità purtroppo poi le dinamiche ritornano e i risultati non sono costanti. Quindi per avere risultati duraturi serve andare effettivamente all'origine della dinamica ok? Quindi intanto partiamo da questo presupposto. La donna viene viene da una società, viene sostanzialmente da un'educazione dove negli ultimi secoli è stata perennemente repressa. La donna è stata repressa, è stata smenuita, è stata svalorizzata perché veniamo da un patriarcato dove sostanzialmente l'uomo ha preso comunque il sopravvento e la donna ripeto per secoli e secoli è stata sostanzialmente al di sotto dell'uomo. E tu dirai e quindi cosa c'entra? In realtà c'entra e c'entra tantissimo. C'entra tantissimo perché? Perché tutto questo noi l'abbiamo assimilato e ce lo portiamo dietro a livello proprio cellulare quindi non solo di credenza che poi in realtà la credenza cambia la biologia ok? Quindi segnati questa frase la credenza cambia la biologia ma ce l'abbiamo proprio dentro ok? Perché? Perché essendo stata repressa nell'ultimo secolo la donna ha fatto di tutto per poter emergere, per poter dimostrare il proprio valore, il proprio essere, le proprie capacità. E quindi arrivando ai giorni d'oggi no? Cioè pensiamo a quante cose effettivamente la donna ha ottenuto e ha fatto per arrivare fra virgolette alla famosa parità che poi parità ovviamente non è e anzi credo profondamente che la parità non è giusto che ci sia e che non ci debba mai essere perché comunque siamo diversi ok? Ma lasciamo andare questa cosa qui che è un altro discorso. Quindi capite bene che per fare ok per dimostrare ha dovuto mettere in campo un'energia maschile che non gli appartiene o perlomeno gli appartiene perché a tutti appartiene tutto ma e quindi ripeto mette in campo tante energie maschile fare 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 e quindi vado verso l'esterno vado verso l'obiettivo vado nel nel rincorrere ripeto il risultato e non do spazio in realtà alla forza intima e alla grande al grande radicamento che invece ha l'energia femminile. Quindi siamo arrivati ad una società dove la donna in realtà ha più energia maschile dell'uomo. È vero o no? Provate veramente a pensare e questo fare fare che ripeto ha portato comunque tutti questi meccanismi in realtà ha portato ad un punto di rottura nella donna perché questo sta a significare che è il momento di tornare dentro di tornare alla nostra natura di rallentare di introiettare quindi è un momento di profonda introspezione che la donna comunque deve fare e anche qua non è sconnesso con la malattia perché la malattia è un avviso importante è un avviso del fatto che si è utilizzata più un'energia rispetto che un'altra e quindi quando il corpo fisico utilizza più energia e c'è un squilibrio inevitabilmente lo comunica. Dimmi se ti è stato utile questo video. Alla prossima!